Sono andato a fare un giro, torno a casa a vedere dove sono i magazzini Amazon. No, perché devono essere qui o sotto terra, perché uno ordina una cosa e gli arriva immediatamente. Cioè arriva una roba, il giorno dopo arriva, anche se arriva il giorno dopo, dove sono questi magazzini? Cioè ce ne sono qui, dietro l'angolo, sono sotto terra? Sono sotto una collina? Perché adesso arriva che addirittura ordina e gli arriva, prima ancora che ordini, ordina una cosa e gli è già arrivata. E dove cazzo sono questi magazzini Amazon? Io voglio sapere, adesso torno a fare un gran giro, aprirò delle bottole, guarderò se... Perché secondo me lavorano sotto terra, sotto di noi, per forza. Se no zing zing, smeriglio del 20 che poi su Amazon se lo ordini ti arriva immediatamente nelle chiappe.